Era fondamentale reagire, era importante vincere e l'abbiamo fatto, quindi sono tre punti che pesa e noi siamo contenti di averle portate a casa. Avete colpito nei momenti giusti? Anche nei momenti in cui il Verona stava giocando bene, con coraggio? Sì, ma il Verona è una buona squadra e dirà la sua nel girone di ritorno. Credo che, come detto, abbiamo colpito nei momenti giusti e potevamo farlo anche successivamente. Potevi chiuderla davvero la partita perché sul 2-1 poi la riapri e rischi di pareggiarla al 94esimo e porti a casa un punto e poi vai a recriminare e poi le parole stanno a zero. Il Son e Wagner, come lo giudichi l'inserimento di queste due giocatrici che vanno a sostituire altre giocatrici di grande valore che però per varie ragioni avete perso durante la stagione? Buono, penso che si sia visto, si sono integrate bene nel gruppo e si sono inserite bene anche negli schemi, nelle situazioni di gioco che si sono viste oggi. Penso che saranno due persone che ci daranno una mano ma abbiamo altre 10-12 persone fuori che vogliono dire la loro. Più persone ci sono che lottano e che vogliono fare bene, più persone ci mettono in difficoltà, più si riesce a fare bene tutti. Che direzione sta prendendo tecnicamente e tatticamente questa Florenza San Gimignano anche con l'uscita, come si diceva prima, di giocatori importanti come Orlandi, Kelly? Certo, sono uscite due persone importanti che erano importanti sia per il gioco di squadra sia per il gruppo, però ormai è brutto da dire ma bisogna un po' dimenticarsene. Abbiamo queste persone nuove e tutte le altre che ci sono ad inizio anno bisogna lavorare con loro e siamo contenti di lavorare con loro. Quindi da qui alla fine dovremo fare bene così. Ultima cosa, sulla Juventus, realisticamente come si ferma questa squadra? Questa settimana ci lavoriamo, ci lavoriamo, sono in undici loro e siamo in undici noi, la palla rotonda, quindi abbiamo una settimana per pensarci. Beh, è una vittoria molto importante per noi perché dopo la sconfitta con la Fiorentina volevamo rifarci, quindi adesso siamo contentissime e direi che è stata una bella prestazione di squadra, voluta e ottenuta. Ma adesso come stai? Perché hai avuto un infortunio che ti ha condizionato molto durante la stagione. Sì, io mi sono strappata dopo due partite e adesso sto bene, sto riprendendo, le cose vanno sempre meglio e direi che poi lascio parlare il campo. Aiuta questa vittoria a guardare al domani con maggiore positività per la Florenza San Gimignano? Sì, diciamo che dopo la partita con la Fiorentina è stata una settimana un po' così, quindi le vittorie aiutano per star tranquille e adesso oggi festeggiamo e da domani pensiamo a recuperare e poi a preparare al meglio la partita con la Juve. Appunto, con la Juventus. Come si ferma questa capolista? Beh, si ferma con tanta aggressività, con grinta, con la mentalità giusta direi, perché sul piano della qualità loro ovviamente sono più forti. Però credo abbiamo fermato il Milan, abbiamo fermato la Roma, quindi niente è impossibile. Proviamoci. Sì, era una partita molto delicata per tutte le motivazioni che ha elencato, sia per la classifica in primis che per essere la partita dopo una bella batosta, perché comunque perdere 6 a 1 anche se con la Fiorentina può lasciare degli strasci, quindi era importante appunto ripartire bene e cercare anche di fare punti per allontanarci dalle zone basse. Poi il Verona era una diretta concorrente perché era tre punti sotto e quindi direi che è andata bene, anche con il brivido finale, ma è andata bene. Avete avuto anche capacità pratica di colpire nei momenti giusti della partita in fase della gara in cui il Verona se l'è giocata con coraggio? Sì, assolutamente. Comunque avevamo preparato la partita in un certo modo. Poi si sa che ci sono gli avversari, c'è il campo, ci sono tante variabili che non puoi controllare. Ci eravamo dette di pensare a giocare, di pensare a portare a casa punti e lo hanno fatto, lo hanno fatto benissimo. L'hanno mollato un centimetro contro una squadra che comunque ha dimostrato il secondo tempo che come abbiamo mollato un minimo ci ha castigato. Quindi direi che oggi è una vittoria molto importante. Come giudichi, come valuti l'inserimento di Nilsson e Wagner? No, benissimo. Sono due ragazze che si stanno allenando con noi già da un po' e si vede perché si sono già integrate nel gioco. Ci hanno dato una grossa mano e ce la daranno ancora. Martinovic si ha spazio alle occasioni, due tiri nello specchio, due gol. Sono sette gol in campionato, in 13 partite. Non la scopriamo certo oggi, ovvio. No, assolutamente. Melania è un bomber di razza con un carisma molto forte e diciamo che va un po' indirizzata. Però quando fa il suo lavoro non ce n'è per nessuno. È stata una gara tirata. Sono contento delle ragazze di quello che hanno fatto. Sono stato in partita fino alla fine. Abbiamo anche avuto delle occasioni per pareggiarla, però pazienza. Pensiamo alla prossima. Cosa ha visto di positivo? Cosa ha visto che gli è piaciuto? Le ragazze avevano voglia di fare bene. Quindi è un buon punto di partenza. Hanno provato a fare quello che abbiamo fatto in allenamento, quindi sono contento. Verona che si è giocato con positività, con coraggio, si è giocato a viso aperto questa partita. Ma il Verona deve sempre giocare così. Noi sappiamo dei nostri pregi, dei nostri difetti e cerchiamo di lavorarci sopra.